Biella sempre più un punto di riferimento per giovani creativi, per gli amanti della natura. Torna infatti, nell'ambito della non-edizione di Selvatica, Arte e Natura in Festival, Be Natural, Be Wild, un concorso rivolto a pittori e disegnatori maggiorenni che desiderano raccontare la natura attraverso l'arte, esprimendo la propria creatività con tecniche e stili differenti, ma avendo al centro la propria anima wild. Giunto alla terza edizione, il concorso ha visto crescere il numero di partecipanti, passando dai 114 della prima edizione ai 300 di quest'anno. Un segnale positivo che sottolinea come il messaggio naturalistico sia ormai ineludibile per garantire un futuro al pianeta e come Biella in questo sia stata all'avanguardia, proponendo con Selvatica una riflessione duratura sul mondo naturale e i pericoli che lo minacciano. Be Natural, Be Wild vuole avere come elemento di ispirazione e spunto di riflessione tre dei 17 obiettivi di Agenda 2030. Primo, promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico, poi conservare in modo durevole oceani, mari, risorse marine ed ancora proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema. Le opere degli oltre 300 partecipanti, provenienti da tutta Italia, saranno giudicati da una giuria composta da curatori, esperti d'arte e galleristi. Le 20 opere finaliste saranno allestite in una mostra all'interno del percorso espositivo di Selvatica. La premiazione avrà luogo venerdì 18 marzo, durante l'inaugurazione di Selvatica 2022.